I nostri amici protestanti chiamano canonici ciò che noi chiamiamo proto-canonici e per loro il testo è ispirato. Invece questi non sono ispirati, ma ciò che loro chiamano apocrifi sono i nostri deuterocanoni, e i nostri apocrifi loro li chiamano pseudoepigrafi. Quando perciò voi parlate con un fratello protestante, amici miei, superverete, perché quando loro dicono apocrifi stanno dicendo dei testi che per noi invece sono ispirati, per loro no, e sarebbero quei sette sottolineati. Mentre quando noi parliamo di apocrifi loro rischiano di pensare che stiamo adoperando il loro vocabolario e che quindi stiamo nominando i deuterocanonici, no, noi stiamo nominando i loro pseudoepigrafi. Per cui ogni volta che ci troviamo a discutere di cose serie, c'è sempre sulla lavagna questo quadretto, in modo che non ci siano equivoci nel vocabolario, a noi non occorre un quadretto. però c'è sempre, in mezzo sia ai cattolici sia ai protestanti, qualche teologo. E allora li mettiamo il quadretto in modo che sia impeccabile, sia il protestante, sia il cattolico, che non è il biblista, quando parla a non commettere un errore di vocabolario, perché allora passa un altro messaggio. Perciò noi siamo abituati a fare il doppio nome, quando noi diciamo, nei nostri deuterocanonici, i nostri apocrifi, e si parla, in modo che proprio ogni equivoco sia totalmente dissipato. Bene, quello che abbiamo visto è solo e unicamente un po' di vocabolario. Cosa sappiamo noi del canone partendo dalla Bibbia? Noi sappiamo che nell'Antico Testamento gli ebrei avevano una serie di libri che ritenevano la parola di Dio. In Deuteronomio 21, secondo me dovrebbe essere 31 la memoria, per il momento è ancora buona, 31. Mosè scrisse questa legge. C'è un testo scritto. E la dia dice a tutti i figli di Levi che portavano l'arte dell'alleanza del Signore e a tutti gli anziani di Israele. Mosè chiede loro quest'ordine, la fine di ogni sette anni al tempo dell'anno della remissione, ogni sette anni c'è l'anno sabbatico. Nell'anno sabbatico si restituivano le case, i campi e il proprietario originario e si lasciava libero lo schiavo ebreo, non l'altro, non lo schiavo pagano. Il schiavo ebreo tornava libero ogni sette anni. Ecco perché viene chiamato l'anno della remissione. alla festa delle capanne è una delle tre feste importanti di Israele e quella autunnale. C'è la festa primaverile di Pasqua, c'è la festa estiva dei covoni e c'è la festa autunnale delle capanne. Sono feste legate al mondo pastorizio e al mondo agricolo. Loro hanno preso queste feste per ricordare episodi dell'esodo. L'uscita dall'Egitto, la Pasqua, la liberazione, l'alleanza e il soggiorno nel deserto. Quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti al Signore tuo Dio nel luogo che verrà scelto. Di per sé la finzione scenica sarebbe che qui sta parlando Mosè nelle steppe di Moab. Quando voi guardate la Palestina, voi avete il mar Mediterraneo, la Palestina, i famosi tre quadrati uno sopra l'altro. Sulla vostra destra, al limite dei quadrati, avete il Giordano. In fondo avete il mar morto nel terzo quadrato, sulla destra del terzo quadrato. Al di là del mar morto c'è Moab. Gli ebrei erano lì e Mosè sta dicendo come dovranno comportarsi quando entreranno in Palestina. E poiché queste tre feste, Pasqua, Covoni, Capanne, sono feste di peleclinaggio, cioè tutti i maschi devono scendere a Cerusalemme. Allora si dice, alla fine di ogni sette anni, il tempo dell'anno della remissione, alla festa delle Capanne, quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti al Signore, cioè verranno al Tempio. Nel luogo che avrà scelto, leggerai questa legge, che vuol dire allora che c'erano dei libri. Davanti a tutto Israele e alle orecchie di tutti, radunerai il popolo, uomini e donne, i bambini e il forestiero che saranno nella tua città, perché ascoltino, imparino a temere il Signore, vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. I loro figli, che ancora non lo conoscono, laudranno e impareranno a temere il Signore, vostro Dio, finché vivrete nel paese in cui voi state per entrare, per prenderne possesso attraversando il Giordano. Dunque, nel VI secolo a.C. ci sono già dei libri che vengono ritenuti scritti da Mosè, che sarebbe il pentatempo. Perfino all'epoca di Gesù era rimasto il nome, cominciato da Mosè e dai profeti Spigolori e tutta la scrittura. E Mosè vuol dire pentatempo all'epoca di Gesù, perché veniva ritenuti essere stati scritti da questo grande condottiero. Dal VI secolo passiamo al II secolo a.C. Siamo alla fine del II secolo. Siamo all'epoca di Tolomeo e Vergeli. Siamo ad Alessandria d'Egitto. Il nipote del Siracide, anzi il nipote di Ben-Sira, ed è il nipote che si chiama Siracide. Il nonno si chiama Ben-Sira. Ben-Sira aveva scritto il libro in ebraico, il Siracide lo traduce in greco. E all'inizio del libro il nostro amico ci mette un cappello, un prologo, nel quale dice così. Molti e importanti insegnamenti ci sono stati dati dalla legge, dai profeti e dagli altri scritti. Che cosa hanno dato? Che già nel II secolo c'è questa dicitura. la legge, i profeti e gli altri scritti. Quindi noi abbiamo già un canone degli ebrei nel II secolo. Peccato che il Siracide non ci dica quali sono i libri che componevano la legge, quali erano o quali fossero meglio i libri che componevano la raccolta profeti e quali fossero i libri che componevano per la volta altri scritti. però la divisione, notate, è già chiara. E la classificazione, se notate, viene ripetuta in fondo al testo. Allora lui dice che queste raccolte sono importanti per i quali i libri e viene da lode a Israele quanto a dottrine e a sapienza. Però non è giusto che vengano a conoscenza solo quelli che li leggono, ma è bene che gli studiosi, con la parola e con gli scritti, si rendano utili a quelli che ne sono al di fuori. Siracide era un biblista come me. E dice giusto che la gente conosca tutto questo. Per questo motivo mio nonno Gesù sarebbe questo il Siracide, il Ben Sira. Per questo motivo mio nonno Gesù, Gesù Ben Sira, poi abbiamo scoperto che Sira non è il papà di Gesù, è il nonno. Qui dice Sira, il nonno, che deve essere stata una persona importante. Poi c'è Leazzaro, che è il papà che deve essere stato uno zero sociale. E poi c'è Gesù, Ben Sira, figlio di Sira, ma salta la generazione. Da questo comprendiamo che la parola figlio non sempre indica il rapporto diretto. Gli ebrei erano un po' casimisti sotto questo profilo. Perché dicevano fratello, al cugino, allo zio, al nipote. E l'individuo si diceva figlio, ma si rifaceva, come in questo caso, al nonno. Il nonno è proprio per me. Dopo essersi dedicato per tanto tempo alla lettura della legge, dei profeti e degli altri libri, eccoli qua che torna un'altra volta la triade, avendone conseguito una notevole competenza, fu indotto pure lui a scrivere qualche cosa. È un libro infinito, 42 capitoli, 41 capitoli. Fu indotto pure lui a scrivere qualche cosa su ciò che riguarda la dottrina e la sapienza, perché gli amanti del sapere, assimilato anche questo, possano provvedere sempre più nel vivere in maniera conforme alla legge. Siete dunque invitati a farne la lettura con benevole attenzione ed essere indulgenti se, nonostante l'impegno posto nella traduzione sembrerà che non siamo riusciti a rendere la forza di certe espressioni. Quanto ha ragione. E questo l'ho provato sulla mia pelle. Altro è l'ebraico, altro è l'italiano. Difatti le cose dette in ebraico non hanno la medesima forza quando vengono tradotte in un'altra lingua. E lui, povero, lo stava traducendo in greco. E il greco è una lingua molto ricca, molto più dell'italiano. Eppure anche lui faceva fatica. E non solamente quest'opera, dice il Siracide difficile da tradurre, ma anche la stessa legge, i profeti e il resto dei libri nel testo originale conservano un vantaggio non piccolo. Adesso sapete perché esistono i biblisti. Per questo motivo. Bene. Lui, nell'anno trentottesimo del re Evergete, uguale 132 a.C. Tolomeo e Evergete, nel suo trentottesimo anno, si è vissuto questo numero. Anch'io, venuto in Egitto e fermato più poco dopo aver scoperto che lo scritto è di grande valore educativo, ritengo necessario, eccetera, eccetera. Quello che non interessa sono queste tre suddivisioni. Legge, profeti e gli altri scritti. E quindi noi possiamo dire, dunque, che nel secondo secolo, alla fine del secondo secolo, perché siamo nel 132, non dimentichiamocelo, noi abbiamo senz'altro un canone presso gli ebrei. La domanda è, è un canone fisso o è un canone fluttuante? La risposta giusta è la seconda. Dopo spieghiamo questa frasetta. Perché è giusta la seconda? Perché noi abbiamo dei dati, anche questi piuttosto complicati, ma una volta capiti sono chiarissimi, che ci dicono, appunto, che il canone era fluttuante. Vediamo perché noi ci siamo accorti di questo. Quando gli ebrei hanno sentito dire da noi biblisti cristiani che il loro canone era fluttuante nel secondo secolo, arrabbiatevi. Dicono, non è colpa nostra. I dati sono questi. Quali sono i dati? Io vi faccio solo due esempi. Perché se stiamo a fare tutto il problema, faremo otto incontri sul canone fluttuante. Il testo dei settanta, testo greco dell'Antico Testamento, ha il libro di Geremia più corto rispetto al testo ebraico che noi oggi conosciamo, quasi di un terzo. E fino al 1947 questo fatto non si sapeva come spiegarlo. Mettendo insieme i testi, ebraico da una parte, greco dall'altra, si si accorgeva che alcuni brani sono tradotti ad literam, solo che sono spostati. Ciò che si trova, ipotesi, nel terzo capitolo del testo ebraico si trova nel diciottesimo del testo greco. È lo stesso testo, solo che è spostato. Questo è il primo fenomeno che abbiamo riscontrato. Però il testo greco è più corto di quasi un terzo. E abbiamo visto quali sono le parti che nel testo greco non ci sono. Sono le parti di riflessione teologica sulla profezia. Non c'è. Si esaminano i manoscritti di Qura e si scopre un libro di Geremia ebraico. Si compara questo testo con l'ebraico masoretico, quello che noi abbiamo come testo ebraico, e ci si accorge che non è uguale. Ci si accorge che è più corto di quasi un terzo. E ci si accorge che certi testi sono spostati. Si è preso questo testo di Qumran, lo si è messo in parallelo col testo greco dei settanta ed è perfetto. Quanti testi di Geremia esistevano nel primo secolo, cioè all'epoca di Gesù? Due. Testo lungo, quello che poi è passato nell'ebraico masoretico, e il testo breve che ci era testimoniato dalla traduzione dei settanta. Questo significa che nel primo secolo d.C. il canone ebraico non era ancora chiuso. Non era stato definito con esattezza quale dei due fosse ispirato. E noi conosciamo da un trattato del Talmud. Talmud sarebbe del quinto secolo. Però questo trattato è molto antico. Il Baba Batra, Baba Batra. Noi siamo abituati a chiamarlo Baba Batra. Dove c'è un elenco? Baba Batra è del secondo secolo d.C. Il Talmud è del quinto secolo d.C. dentro dunque a quest'opera si è un'opera molto antica. Per cui le prove che noi abbiamo sono che il canone dell'Antico Testamento è stato fissato definitivamente nel secondo secolo. Non prima, perché prima abbiamo i testi fluttuati. Lungo, corto, va dello stesso. Vi sembrerà ridicolo, ma il canone ebraico si chiude dopo il canone cristiano. Perché l'ultimo scritto del Nuovo Testamento è del 105 d.C. ed è la seconda lettera di Pietro. Loro invece chiudono il canone dopo la seconda metà del secondo secolo. Cioè dopo il 150. Noi avevamo già il nostro canone. Quindi il canone cristiano delle scritture non dipende dal canone ebraico. Vi è chiaro questa idea? Noi, alle soglie del secondo secolo, avevamo già il nostro canone. Del canone ebraico. Vi è chiaro? La cosa che ci ha impressionato di più non è tanto che noi abbiamo chiuso il canone dell'Antico e il canone del Nuovo già all'inizio del secondo secolo. Ma quello che ci ha impressionato di più è che negli scritti del Nuovo Testamento noi abbiamo le citazioni del testo greco dell'Antico Testamento, non del testo ebraico. Il che ci fa sospettare che la Chiesa abbia scelto come testo dell'Antico Testamento non il testo ebraico ma il testo dei settanta. in un periodo in cui il canone ebraico è ancora fluttuante. Il cristiano ha detto della fluttuazione a noi non interessa, interessa questo. Anche se alcune eccezioni le hanno ammesse perché nel canone cristiano c'è il Geremia lungo. Non c'è il Geremia greco ma c'è il Geremia ebraico lungo. Capite perché le cose sono complicate? Non è certo materia di una conferenza in cui la dolcezza dell'ascolto si accompagna anche a un messaggio che può interessare nella vita. Oggi è come ci cerca di lasci. Però è giusto riuscire queste complicazioni altrimenti voi con i testimoni di Geova rimanete sempre impapinati. e adesso nella seconda parte della nostra riflessione toccheremo il problema del canone proprio mondo cattolico e mondo protestante. Questo primo abbiamo accennato in qualche maniera il rapporto cristianesimo-ebraismo. Adesso ci prendiamo il Sacro Santo Caffè e nel secondo round vedremo quest'altra cosa. Sono le 10 e 29 alle 10 e 45 siamo qui. Noi Zug Erole Caffè Inghinsa